riprendiamo il racconto 1870 l'italia è unita molte cose di qui a breve cambieranno anche nelle lande dell'agro romano nel 1870 il nunzio apostolico monsignor angelo bianchi 1817 1897 compra da giuseppe figlio della contessa cini i 72 ettari del latifondo pianduetorri per impiantarvi una vaccheria il monsignore non avrà molto tempo da dedicare alla tenuta perché gli impegni ecclesiastici lo porteranno prima in germania e poi in spagna l'unico evento significativo di questo periodo è la posa del collettore di destra un lunghissimo canale di deflusso voluto dal comune di roma per la raccolta delle acque reflue su progetto dell'ingegnere luigi ballo 1887 corrisponde grosso modo all'attuale via della magliana nuova parallela di via della magliana seppiando e torri sonnecchia nella collina sovrastante si registra invece un certo dinamismo dal 1870 nell'area che corrisponde all'attuale zona di villa bonelli e sorta una nuova piccola ma efficiente proprietà fondiaria di 11 ettari in mano al vignaiuolo giuseppe balzani la tenuta è dotata di una casa concorte e tutta la famiglia balzani è tenacemente impegnata nella viticoltura nel 1887 la conduzione passerà da giuseppe ai tre figli per poi essere riscattata nel 1900 dalla sola figlia silvia sposa trinchieri cui dal 1902 subentrano il marito e i sei figli grazie a tutti 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 Grazie a tutti